Il mio piccolo contributo riguarda la materia dell'RC sanitaria e purtroppo il mio profilo è molto più basso degli oratori che mi hanno preceduto perché io mi occupo concretamente di questa roba e più che dei problemi teorici mi devo occupare dei problemi pratici. La responsabilità civile del medico negli ultimi anni ha assunto dimensioni notevoli e purtroppo questo fenomeno non accenna a diminuire. Collegare questa esplosione di sinistri ad un aumento degli errori del personale sanitario sarebbe oltremodo semplicistico e certamente non rispondente alla realtà dei fatti. Le ragioni di questo fenomeno vanno ricercate in varie situazioni. Innanzitutto l'aumento delle aspettative di vita collegate all'impiego delle nuove tecnologie e al progresso della ricerca clinica e farmacologica. Una maggiore consapevolezza dei propri diritti da parte dei pazienti. Noi nell'ultima parte del secolo scorso, nei primi anni di questo secolo, abbiamo assistito proprio ad una maggiore coscienza dei diritti da parte pazienti, utenti e categorie connesse. C'è anche un altro aspetto che è più di origine sociologica, il diverso atteggiamento che i pazienti hanno nei confronti della categoria del medico. Una volta questo rapporto era caratterizzato da una sorta di timore reverenziale nei confronti del camice bianco. Oggi non è più così, si va dal medico prevenuti. Soprattutto i pazienti sono più informati, come il medico gli dà la ricetta o gli prescrive qualche esame, vanno a casa, navigano sul web, controllano l'esattezza delle prescrizioni, i rischi, eccetera, eccetera. Negli ultimi anni poi si è anche assistito ad un ruolo evolutivo della giurisprudenza che muovendo dal sacro santo diritto alla salute, cito dall'articolo 32 della Costituzione, ha connotato in modo peculiare il rapporto paziente-struttura sanitaria. E in pratica che cosa ha fatto? Ha ridotto gli oneri probatori che gravano sul paziente, rendendo contemporaneamente più gravosi quelli che sono a carico della struttura o del medico. Il risultato pratico è che nella stragrande maggioranza dei casi le richieste risarcitorie vengono accolte. Oggi si spara sulla croce rossa. L'evoluzione giurisprudenziale ha portato anche negli ultimi anni al riconoscimento di una nuova forma di responsabilità, quella da omesso o in completo consenso informato che ricorre indipendentemente dalla riuscita o dalla bontà tecnica dell'intervento. In soldoni oggi la professione medica è una professione ad elevato rischio e questo rischio aumenta via più allorché il medico opera in determinate aree di specializzazione, il ginecologo, l'ortopedico, eccetera, eccetera. E' tutto un insieme di situazioni che ha dato poi vita ad un altro fenomeno ugualmente devastante che è quello della medicina difensiva. Cioè la prescrizione di farmaci, analisi, accertamenti, talvolta anche i ricoveri, che hanno il solo scopo di proteggere il professionista di fronte al rischio delle denunce. E' una prassi che costa l'ire di Dio, no? Al servizio sanitario, fonti ministeriali, il sottosegretario Fazio in un convegno ha parlato di una somma che oscilla tra i 12 e i 20 miliardi di euro ogni anno. E fra l'altro, gli avvocati che qui sanno, sanno anche che è una pratica che spesso si rivela inutile perché ha generato nuove ipotesi di responsabilità riconducibili al ritardato intervento del professionista. Alla fine di tutto questo bel quadretto c'è l'ulteriore problema che forse è il problema che è l'aspetto assicurativo. La situazione oggi del mercato assicurativo è tutt'altro che la Osea essendo mai oltremodo complicato piazzare queste polizze ha dei rischi accettabili. Tant'è vero che assistiamo ad un fenomeno a mio avviso molto grave che sono quello che molte regioni in Italia stanno abbandonando la copertura o hanno coperture che prevedono delle fasce di rischio a loro carico di centinaia e centinaia di milioni. Mi risulta che la Toscana non si è assicurata mi risulta che il Veneto stia per indire una gara dove c'è una franchigia di 500 milioni come nel Friuli. Al di là degli oneri economici diretti che sono quelli dove c'è il conto subito vanno considerando anche gli oneri sociali. Innanzitutto il carico degli uffici giudiziari. Nel 2007 parliamo di 30.000 cause solo di responsabilità sanitaria cioè il 6% del contenzioso che riguarda l'RC generale. Questa slide grossomodo riassume qual è la situazione attuale. Nel 2001 le richieste di risarcimento per i danni di questa materia erano circa 12.000. Nel 2010 hanno raggiunto quota 30.000 con un trend di crescita del 150%. Secondo le stime il totale dei danni provocati in questo settore ho saltato quella parola lì perché non so l'inglese è di circa 260 milioni di euro. Secondo l'Istat dal 2000 al 2008 le regioni hanno accumulato un disavanzo di 40 miliardi. Abbiamo visto che la medicina difensiva costa dai 12 ai 40. Quindi è un deficit che potrebbe essere forse finanziato. Allora è in questo quadro disastroso che lo scorso anno si è inserito il decreto legislativo 28 che ha statuito l'obbligatorietà della mediazione in materia di RC sanitaria. E qui emerge un dato drammatico che il legislatore non ha assolutamente preso in considerazione la specificità di questo settore. Innanzitutto c'è una stranezza che viene fuori che la mancata equiparazione tra la responsabilità medica e quella paramedica. Per esempio la somministrazione di medicinali, eccetera, eccetera. Se sbagliano a somministrare un medicinale non è mediazione obbligatoria ma è mediazione facoltativa. Cioè tutto sommato ci voleva anche neanche tanta fantasia. Tanto più che ormai si è affermato il concetto di responsabilità da contatto sociale. In secondo luogo la grossa lacuna a mio avviso è che non si è assolutamente considerato che in questa materia era necessario avere degli attori dei protagonisti specialisti o specializzati. Che cosa si trova di fronte il mediatore quando gli mettono una questione di carattere sanitario? Innanzitutto identificare i soggetti coinvolti o da coinvolgere. La necessità o meno di coinvolgere l'assicuratore. Nella RC Medica non c'è l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore. L'assicuratore deve essere chiamato nel processo normalmente viene chiamato in garanzia. L'istanza di mediazione viene fatta nei confronti di chi? Sono tutte questioni che si dovranno affrontare. Bisogna affrontare i profili della responsabilità che non sono semplici. Responsabilità contrattuale responsabilità extracontrattuale la responsabilità da contatto sociale e ogni tipo ogni ipotesi di responsabilità ha delle conseguenze banalissime sulla prescrizione. Il nesso di causalità la relazione della condotta del medico l'evento dannoso e qui si pone il problema è chiaro che il nesso di causalità in questa materia non lo può che stabilire un medico un consulente a questo punto si aprono tante questioni l'organismo che ha nei propri elenchi dei medici mediatori perché se c'è il comediatore le spese non salgono se c'è un mediatore e si deve richiedere una consulenza si paga e nella mediazione la cosa carina è che si paga tutto cash cioè non è prevista la dilazione il danno alla persona biologico morale esistenziale il danno ai superstiti i requisiti della colpa la colpa lieve la colpa grave l'imprudenza la perizia i criteri di calcolo per il danno che in Italia sono un po' macchia di leopardo ti tagliano un braccio a Milano vale tanto vai a Bari ti fanno risparmiare il danno al minore e soprattutto un aspetto che non è stato molto esplorato ma che sarà secondo me determinante sono i rapporti tra la mediazione e il processo penale perché molto spesso dietro a queste vicende c'è anche un procedimento per reale in sostanza stiamo parlando di un bagaglio di conoscenze che debbono essere alla base della formazione del mediatore perché il mediatore è chiamato ogni tanto a fare una proposta e questa proposta quando non viene accolta è sottoposta dovrà reggere il vaglio del magistrato il magistrato opera secondo criteri di diritto c'è l'importanza della preparazione del mediatore secondo me rileva anche sotto altri aspetti un mediatore tecnicamente preparato sarà credibile e autorevole agli occhi delle parti e nel procedimento di mediazione credibilità e autorevolezza sono mio modesto avviso dei requisiti essenziali senza credibilità e autorevolezza del mediatore il procedimento di mediazione rischia di essere solo una perdita di tempo o di denaro la sanità in Italia è travagliata da grossi problemi che fra l'altro sono acuiti da questo contesto di concorrenza che si è voluto introdurre tra sanità pubblica e sanità privata in un simile contesto di concorrenza di ricerca esasperata di una pretesa efficienza dove il paziente è destinato ad essere e a diventare sempre di più un numero più numeri tagliati e ricuciti più efficienza e di fatti puntualmente i grossi casini della sanità lombarda sono venuti fuori Santa Rita Humanitas dove entravi per togliere un dente ti montavano quadro bypass e cose di questo genere ripeto la mediazione non è il toccasana certo che l'introduzione della mediazione può essere il momento per una riflessione complessiva sull'intero sistema grazie a tutti grazie a tutti